Benvenuti, signore e signori. Portarvi in un mondo fantastico. Popolato da personaggi bizzarri e mitologici. Conoscerete creature straordinarie. Capaci di imprese memorabili e stupefacenti. E niente è come sembra. Frantz. Io vedo la prossima. Questo bambino e questi tre chiamati sono la nostra unica esperienza. Ho l'Hitler! Si è convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. E il suo regalo per Hitler? Un pugno di supermobili con lui al comando. Io come faccio senza sete? Hanno inciso fare nessuno. Manco la guerra. Questa è che ha confinato! Io non ammazzo nessuno. La guerra è guerra. Falli fruttare sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione. Non è un dono. È un dono. Drei uomini e un piccolo uomini, hanno dato un po' inizia in un po' inizia. Tu sei speciale, Vinci. Tu sei un dono. Grazie a tutti.